Bivacchi in via Romolo Gessi, piazza Libertà, viale Miramare, i topolini di Barcole al giardino Scabar, tutti oggetto dell'intervento degli agenti della polizia municipale. Nel periodo in cui sono molto attuali le discussioni riguardo l'armamento degli uomini e le donne della locale, lo stesso corpo prosegue con le attività del controllo del territorio come disposto dal regolamento di polizia urbana in vigore da marzo dello scorso anno. Questa mattina gli operatori sono intervenuti a seguito di una segnalazione in viale Romolo Gessi dove tre uomini, tutti stranieri, sono stati sorpresi a dormire nell'area giochi. Si tratta di uno di nazionalità iraniana, regolare nel nostro paese, e due afghani con invito a presentarsi in questura nei prossimi giorni. A tutti sono state contestate le violazioni dall'articolo 9 del regolamento di polizia urbana, con una multa di 200 euro e notificato l'allontanamento dal sito. Stessa sorte anche a un cittadino italiano, sorpreso a bivaccare sul marciapiedi di viale Miramare. Anche a lui è stata contestata la violazione al medesimo regolamento, sempre nell'ambito dei controlli sul territorio, dopo aver effettuato verifiche a Barcola, con numerose segnalazioni da parte sia di residenti che di frequentatori dell'area, rispetto a numerosi bivacchi di turisti o altri cittadini equipaggiati con tende o coperte per passare la notte, soprattutto nella zona dei Topolini e Giardino Scabar, il personale della polizia locale ha allontanato in un'altra area molto calda, Piazza Libertà, 18 richiedenti asilo, che stavano apprestandosi a bivaccare nei pressi della Iuola Centrale, vicino al monumento di Sissi. Dinamiche che, come intendono i controlli della polizia locale, disposti in questi giorni, non sono sfuggiti all'occhio del comune, che si sta adoperando per arginare il fenomeno, con le naturali difficoltà legate al numero di agenti da poter impegnare e le altre attività da svolgere.